Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Giulio, oggi sono in compagnia di Sergio Nike Allora, leviamo la webcam come il solito e poi la mettiamo dopo Allora, possiamo iniziare, ho messo una mappa abbastanza semplice, una casa a due piani dovrebbe essere Come sapete registra pure Sergio Quindi direi procediamo, procediamo, no? Senti ma la miniatura che faccio io la mando anche a te poi? O te te la fai da solo? No, la miniatura non la posso, la sono sola Ok, ok, va bene, va bene Ma io, allora, i miei sì perché c'ho il microfono, non so se gli altri ti sentono Spero di sì per te Sì, sì, credo che mi sento, mi sento Se apri OBS e vedi la traccia del microfono e sale comunque No, non mi sale Allora vuol dire che c'è che, vabbè, poi dopo lo vedi Quanti FPS stai facendo te ora, Sergio? Io ho 30, credo Su OBS lo vedi? Su OBS 30 FPS Allora non puoi, non hai avviato la registrazione? Sì Strano perché anche io ne faccio 20 e io l'ho avviata Cioè ne è 30, non so Ma di tutte e due, sai, io ti ho da telefono quindi per me forse meno il lag Sì, ma no, vabbè, a parte che te ne video laghi quindi non credo che Ma io sto laggando, te mi senti nel laggo? No, no, tipo io quando ti sento che non laghi, però nei video laghi Eh, i video lo sai il problema, vuole, che non tutti Cioè il tuo computer forse essendo più nuovo Perché il mio, ti dico, allora, il mio lo sai per cosa lo usava, no? Lo usava un mio amico, non ci giocava proprio Però, insomma, la scheda video io non l'ho modifiata Me ne fanno un nuovo, la modifico lì, capito? Facciamoli tenere da parte i sordi Allora, gli obiettivi, come il solito, le chiavi io non le ho prese Le prendi Aspetta, eh Lavandino, incenso Attraverso il salt Ottenere un fantasma di camminare attraverso il salto Ma che vuol dire attraverso il salto? Ho capito che il salto può essere salto, ma Robert Miller Ah, col sale Ma non credo, non credo Sala, sala, sala Vengo anch'io oggi, vai, in esplorazione Oh, senti, ce l'ho io, perché Ma il tuo computer di che anno è? Eh, più di si può dire di due anni fa, eh Nel 2018? Eh, c'hai i 6 O i 7 La prima cosa che devo fare è abbassare il volume massimo Stai aprendo te la porta? Sì L'ho aperta io No, sai, c'è sempre da preoccuparsi Oh, ma già si inizia? Ah, io non ho acceso nulla, eh Non ci provare Non ho acceso nulla, ma cosa dici? No, ho visto Ma, ma l'hai acceso te qui Quando hanno sfarettato per un attimo, no? No, sì Qua no Qua hai visto per un attimo Si sono acceso E ora so così È stato lui Allora E qui cosa c'è? La 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 Qui tanto c'è la cantina Tanto lo so cosa c'è qui Guarda Tanto va verso il basso Non c'è il cesso Guarda Oh Si apre Si c'è Uno Sgabuzzino Aspetta Entro io Perché qui solitamente c'è gli ossi Vieni anche te Così mi accendi la luce Oh si Sergio Vieni c'è un'altra porta Oh Sergio 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 Dammi un segno Non ti sto sentendo Su Discord Sergio Non stai parlando Su Discord Se Nemmeno sul gioco Un attimo Sergio Sergio Stai facendo meme Quando registravo Non ti sento Prendi il cellulare Te Mi stai sentendo Io Su Discord Non ti sento Un attimo Esco da Discord Mi senti? Mi senti? Mi senti? Sergio Io non ti sto sentendo Non ti sto sentendo Sergio Mi senti? Ora si Che è successo? Oh Cioè Aspetta Esco di dentro Lo disco No ora ti sento Ma cos'è successo? Dio 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 Sergio Mi senti? Non fa Non fa Non fa Dio Sergio Mi senti? Sì Ok Ora ti sento Ma cos'era successo? Sono Non fa Vieni Dio Che bella targa Ma che bella targa Tutto al contrario Accendi le luci vai ce le avevi dietro Lì appena entri Sì ma è enorme Questa casa Vai accendi hai acceso Non è un gioco normale No per un attimo non ti ho sentito Che era successo Ma che ne so io Nemmeno io ti sentivo Senti si va Dove Si esce tanto qui non c'è niente in questa stanza Ma poi che usiamo No 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 non era l'osso Che osso No mi è sembra Ok qui c'è qui questa stanza Mi dà l'idea vieni qua Qui vedi in cucina Tra la cucina qui c'è una stanza Sì l'ho visto Eh infatti è la cantina Bisogna andarci Ce l'ho da prima io Chi è che ha chiuso la porta Non io Non mi guardare Ma Meno 9 gradi Ecco perché E' in casa Ma è in cantina Ok quindi mettiamo Temperatura di ongelamento Aspetta Sì ma se non mi venga davanti Allora Bene Io Termometro poi me lo droppi te semmai Guarda Uno lo butto qui Vado a prendere le MF Dammi 5 minuti Per vedere se brilla Così almeno ci sarà una prova in più E il sale come funziona Ti porti pure il sale No Eh bravo perché io non ho più spazio Eh sì Sergio L'attività è a 10 Cavolo Oh cioè l'attività ha fatto una M Per un attimo Sì sì Lui è lì Io per un attimo Guarda C'ho la sanità mentale Prima più bassa della tua Semmai poi si mette anche le telecamere Ok Allora te prenditi il sale se vuoi Io prendo le MF E' quella bu Quel metallo Quella latta di metallo Lì davanti C'è lì Si è lui La torcia non la vuoi? Vedo la bu Non so quanto sono affidabile io Capito Vabbè tanto se l'MF è rosso ci sa un'altra prova in più questo dovrebbe essere MF livello 5 bella domanda credo che va sparso a quanti gradi ci sono? se ci sono meno 16 gradi 15 14 non è più qui sto scherzando fino a 11 basta fare così guarda no posso non rompere più sale che voglio oddio mi hai volato l'MF di mano boh io ho messo un po' più di sole poi se se ne va se ne va levati senti ci vai un pochino più giù te a guardare se suona questo andiamo insieme se che l'ho scacciato no l'ho scacciato no che cosa dico non l'ho scacciato è davanti a te qua è un brutto eh sì lo vedo vedo la polvere allora Sergio io vado su a prendere una cosa dimmi se torni qui se l'MF suona 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 me lo devi dire che io faccio prima sto mi piace il sale e sala davanti alla porta della cantina eh io no devo fare una cosa voglio andare a prendere le telecamere voglio posizionarle vado io no ci penso io ci penso io vai per una volta il compito che devo sempre fare io quando non non ma ci sto andando io guarda so più ero avanti vabbè famomi ti pare io buono però volevo ma te potevi rimanere anche lì fuori sulla porta fuori qui che dà verso sul giardino eh io non ti ho detto di entrare io ti ho detto di rimanere semmai sulla porta comunque attività mentale della te dove rimanere lì sulla porta a sentire se suonava il cosino se suonava vai te vai te porto io no io porto il piedistallo faccio così un piedistallo allora va bene così poi me la dai io la voglio mettere nel corridoio allora io uno sto registrando due ognuno c'è i suoi ruoli cioè io il mio lavoro da andare giù a posizione io ti ho chiesto solo se volevi non era un obbligo di rimanere sulla porta a sentire se suonava il cosino no io lo vorrevo posare qua qui vieni dammi la videocamera o piazza ma perché la piazza perché qui se no poi lui se no non si ok perfetto si più o meno ma scusa ma te non hai preso il sale no io dovevo io volevo andare giù a prendere di là il cavalletto per posizionarci per l'appunto la videocamera io ho capito la videocamera la devi regolare per guardare lì un pochino più a destra in questo caso più verso di qua guarda eh se io la metto qui per esempio guarda precisamente davanti alla porta vedi preciso più o meno più il muro guarda però senti puoi rimanere un attimo qua dentro casa che io vado a prendere un'altra videocamera si prendi anche un altro piedistallo se vuoi eh infatti è quello che vado a fare poi io ho sto crocefisso ma crocefisso lo porto o lo lascio portalo semmai lo mettiamo qui vicino alla videocamera così abbiamo gli attrezzi facciamo tanti nomi poi ci manda il copyright di persona ma lo so infatti no Enea ci manda come si è del diritto d'autore si sono io eccomi so qua ma è una bucaiola ma è una bucaiola ma poi sembra proprio un vecchio no non lo posso dire ecco allora i vecchi dalla minonna di Arno sembra ma è una bucaiola o questa AC di 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 cane così ma è una bucaiola andiamo giù comunque il pezzo di di me non c'è e mi sa che se ne è andata eh no 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 il pezzo di scroto no che ho detto di scroto eh certo perché vabbè lo diono però ora dopo te lo dico io cosa vuol dire e non lo dire ora stiamo registrando non mi sembra ovvio poterlo dopo ti dio senti io mi sono rotto i i blobloni te la videocamera la piazza eh i blobloni allora io butto il termometro ma te la videocamera l'hai piazzata ah no ho il bastiano a chiuso le luci eh di sotto eh do mh vado a vedere se ci serve qualcos'altro semmai ritorno e si va lì giù a vedere poi si compila tutto e ce ne andiamo magari però io un'altra telecamera lì in cucina ce la vorrei mettere lo sai perché perché ok il treppiede lo prendo perfetto la mettiamo proprio dentro la cucina sempre punti la porta perché allora aspetta voglio vedere se ci sono le sfere di luce allora vediamo vediamo dio buono quante ecco vediamo no ok io però non vedo niente eh va bene prendo il piedistallo e arrivo no serve un'altra fotocamera e dove l'ha messa quella che avevi in mano eh per sbaglio l'ho droppata definita ma l'hai presa anzi la prendo io guarda così la monto direttamente sul piedista eh ridam ah guarda montala sullo scaffale montala qui sul cosino così mi prendo non ce la mia messa no no montala sull'affarino qua sul treppiede qui sul treppiede oh me cavolo si chiama così la prendo il treppiede e via vai grazie e ora ci dobbiamo muovere il culo uh bella però è hdmi questa ma è una nikon mi dà l'idea quelle cioè questo gioco comunque originale eh il termometro è fatto bene anche questa solo il piedistallo che è grosso poi voglio capire poi voglio capire come fai tipo te anche se sei un personaggio tipo femmina c'è sempre la mano nera no io no il personaggio è un maschio dovrebbe essere perché di colore di pelle però anche se sei una femmina c'è sempre la mano nera no è vero cioè no no io non ho detto allora io la videocamera poi io tu mi pensi che sono razzista solo perché ho detto che tutti i prosaggiano la mano di colore no vabbè però questo è vero sì quello è vero tutti i gioi presumo perché farei le skin oh guarda è bravo bello preciso ah ma se non l'accendo ovviamente attento ok e la mettiamo sul piedistallo F ok senti io mi prendo il mio bel termometrino e così e la videocamera la fotocamera ce l'ho le luci da qui e scende dove si riaccendevano giù ma io giù non ci vado perché tanto poi arrivo il fantasma e mi soffoca ma te dove sei adesso qui prendo il termometro che serve anche a me magari così faccio vedere le temperature e andiamo tutti e due giù vai illumina vai ti illumino la strada e va avanti quando a te no io ho la videocamera però ma in realtà dovresti andare avanti tu perché se te con la torcia ti ricordi l'interruttore lo accendi te io mi metto verso l'angolo vieni 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 è qui dio santo illumina il muro se no non lo vedo dov'è l'interruttore eccolo lo accendi ma meno male ti metti nell'angolo dove so io ci mettiamo nell'altro angolo no lui è qui è da me dove ci mettiamo Sergio qui alla sedia vieni qui al frigo dove sono io vai qui no vieni qui stiamo insieme più protetti aspetta non importa io me ne sto qua ecco io mi metto qui dietro bravo così lo vedo bene abbassati vai dacci un segno fatti vedere spengi le luci io so 20 di reg ora la facciamo da di più così ecco io so 23 io la divido e scrivo questa che è andata male cioè nel titolo dei fatti vedere dacci un segno fatti vedere dacci un segno Robert Williams Robert Williams si chiama Robert Williams si chiama Robert Williams e allora sono lì che c'è un amore da col... Robert Williams Robert Williams fatti vedere perché voi dovete sapere ragazzi che in questo gioco praticamente c'è tipo il coso vocale quindi se tipo clicco B no 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 senza B lui ti sente anche senza B eh con B senza B ti sente la voce però io clicco B perché fatti vedere dacci un segno dacci un segno fatti fatti vedere ma è qui il bastiano intanto è lì eh no è più là però qui ci sono 14 gradi puntati eh no a me qui allora abbiamo i termometri farlocchi perché io qui c'ho 14 ecco sì ora se me lo se abbassavo il termometro perché l'avevo troppo alto fatti vedere dacci un segno dai forza Robert Williams dai fatti vedere oh non lo so io scatto ha chiuso le luci io sento il battito ma non mi fa fa il bastiano il bastiano ho capito cosa ha fatto il bastiano il bastiano non ci ha fatto vedere però non sai cosa ha fatto è passato ci ha dato un segno infatti la macchina fotografia fila giù mi sa che non fa le foto ne ho fatte tre due fatti vedere dacci un segno fatti vedere quanti anni hai sei bello no sei rana no chiedi lì sei ragazza tutto il più dai per favore mi sono rotto capito che vuoi fare la scena ma tanto non ce la fai te lo fai te lo fai perché non mi vuoi far guadagnare tranquillo ragazzi o te brutto fantasma ce li trovo tanto so che ci abbassi tanto la sanità mentale ma so che fantasma sei fatti vedere robert williams fatti vedere ti rifico nella tomba dritto dritto robert fatti vedere dacci un segno fatti vedere dacci un segno fatti vedere no era così fatti vedere dacci un segno dacci un segno fatti vedere fatti vedere fietuso fatti vedere dacci un segno mi sono rotto Oddio Ha sfiatato nelle cuffie Che cacata Che cacata sotto Dai Sergio Aspetta Abbasso al minimo possibile E no 4 Poi mi ha sfiatato bene Anche io lo sono sentito Cioè Vedi ieri L'ho sentito Io comunque lo metto a 3 Ha fatto Anche io Fatti vedere Dacci un segno Non così A me mi fa paura Quando ti sfiata Mi viene la pelle d'oca Mi sembra che ce l'abbia dietro Eh non ho fatto un tempo Tieni sempre La luce accesa A me mi sta venendo Il vomito Te lo posso dire Smettila Sì ho visto Ma non ho fatto Io sento bene L'ho visto Ti ho detto Madonna no Ma comunque è bruttissimo Cioè Al posto della faccia C'è un teschio Ed è deforme Io sto Io sto sentendo Blah 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 L'hai visto davanti alle scale E scendeva Vero e passava Sì No In realtà non ho visto Che stava venendo addosso a noi Però dettagli Fatti vedere Io c'ho solo due foto Che posso fare Comunque Comunque io Se vuoi ti dico Quello che ho visto Probabilmente ho visto Un uomo Che aveva Non ho capito Se era una mazza O una Ascia in mano Io tengo vicino Anche l'F12 Così posso fare Lo screen Magari per la miniatura Fatti vedere Dacci un segno Oh fatti vedere Abbiamo tanta paura L'ho visto L'ho visto Oh Oh Eh Eh Mi spegno Oh No Non riesco a prenderlo Cosa so questi rumori Guarda che brutto Ma brutto Oh 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 F12 No 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 Oh Per un attimo Ho sentito E strozzava Tipo una persona Fammi vedere Se l'ha prese Le foto Eh Ti ha ammazzato Oddio Ecco Io ho sentito Qualcuna Infatti io sto uscendo Ho paura Da solo Non ci No Subito No Sono uscito dal gioco Maledetto Bastiano Che me l'ha ucciso Tanto soldi Me l'hanno dati E so sopravvissuto Anas 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 Anas